Permito. Ma insomma, secondo te, come deve essere il nostro rapporto allora? Qualcosa di diverso, di speciale, non il solito noioso trantran quotidiano. Io chiedo al mio partner qualcosa di diverso, una vita con... Desiderate qualche cosa? Un caffè, con un po' di humor, qualcosa di diverso, di speciale, di straordinario, di fantastico, di sorprendente. Un caffè con humor. Che? Con humor. Non c'è più, è finito. Ci metto un voce per nette, guai. Eh, guai. Ma non di bischierate, quello che tu mi chiedi è un'utopia. Ah, è utopia? Pretendere che una donna cerchi nell'altro... Caffè corretto? Quale caffè corretto? Quello che ho ordinato lei. Ma io ho chiesto un caffè, un caffè normale. E con questo che ci faccio io? Se lo beva lei. Scusi, lei è tosceno? Che si vede? Ah, lei è quello che parla male del Papa? Si, ma che di bianco. Scusi, un caffè normale? Sì. Con utopia. Soltanto con utopia. Si possono creare certe illusioni. Un caffè con utopia. Con chi? Voglio un po' di utopia, un goccio. Dica che sarei sbagliato, lo. Ma no, lo vogliamo fare normale? Per me l'è tutto uguale, come prima. Io invece sai come sento ormai il nostro rapporto? Caffè. Non più normale, ma freddo. Freddissimo. Un caffè freddo, freddissimo. Ti ricordi bene come mi chiamo? Gennaro Gargiulo. E se sbaglia la comanda l'hai messo. Bravo. Ma ne vogliono un altro o lo vogliono freddo? Anche tu non sei più quel tenero amante di una volta. Ma un partner... Freddo. Ecco. Freddo è corretto. Mentre invece in ogni donna c'è il desiderio ordente di un amore... Freddo è corretto. Ma che dice? Bollante e dolcissimo. Ecco come intendo io, un incontro, una passione. Dovevi saperlo che è un sol tipo che fa tante smancerie, io. Il mio affetto per te è normale, sicuro, quotidiano. Sarà come dici te, ma è anche... Volete dolcissimo? No. Amaro. Tanto amaro. Un caffè amaro? Tanto amaro? Stavolta ti sei sbagliato, eh? No. Ne pari ne piretti? E allora che c'hai? Io ti sognavo più tenero, più disponibile, più morbido. E dillo, avresti voluto un amore romantico. All'acqua di rose. All'acqua di rose? All'acqua di rose. Dolce, dolcissimo. No, amaro, amarissimo. Dolce, dolcissimo. No, amaro, amarissimo. Dolce, dolcissimo. Amaro. Non potete trovare un accordo? No. No. Ormai è troppo tardi. Il tempo di prendere un caffè è addio. Addio per sempre. A proposito, ma quando arriva sto caffè? Camerieri, questo caffè arriva o no? L'arriva, l'arriva. Pensaci, amore. Possiamo essere ancora felici. Io ti offro tutto il mio amore e tutto il mio affetto. No, non lo voglio più. Non lo vuole più? No, signorina, lei adesso si prende tutto. Tutto, sì, silenzio. Questo è corretto, questo è scorretto. Questo è l'humor, questo è l'utopia. Questo è dolce, questo è amaro. Questo è freddo, questo è caldissimo. E questo è offerto dalla ditta. Ma che fa? Toscano, corretto la panna. Uno e due. Che libidine! E... Che Plugin!